Tutte le attività siamo stati, noi, ragazzi, io sono un padre di famiglia, io non sono un'unica nuova per sentire tutti i testi, io ho già uno cuore di protestare, mi sono rotto in cazzo, perché io vado alle tasse e mi devono ascoltare, le istituzioni sono assenti, sono assenti, noi siamo l'uomo a attaccarlo, siamo l'uomo a attaccarlo, e poi da dire a tutti i ragazzi, questo che oggi facciamo, non ci facciamo, Mauro, Mauro, fai parlare gli altri, dai che dopo ti faccio parlare, Mauro, non c'è bisogno di parlare con voi, Mauro! 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 Mauro!